Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un caso realizzato col sistema bocca bionica al mio istituto, questo è un paziente che ha realizzato una doppia arcata su impianti dentali arcata superiore e inferiore, abbiamo mandato in cantina questi denti in metallo ceramica che erano stati posizionati da dei dentisti in passato, dei denti per nulla naturali, dei denti monoblocco, monocolore, senza traslucenze e privi di opalescenza. Il paziente aveva perduto per piorrea i denti nelle zone posteriori e questa era la situazione come si presentava, nota come i denti appaiono finti, sembrano dei confetti da zucchero. Denti fatti a mano tipici delle lavorazioni manuali della metallo ceramica. Questa era la situazione di partenza, una bocca con radici tutte in espulsione degli impianti dentali messi qua e là senza guardare alla foresta, qua non c'è stata una programmazione di una riabilitazione complessiva, il dentista che l'ha vista ha messo degli impiantini dentali sottodimensionati, non equidistanziati ma senza dare al paziente la chance di avere poi la via d'uscita con un progetto risolutivo. Quello che abbiamo fatto noi è stato testare dei nuovi denti provvisori, dopo la chirurgia abbiamo eseguito degli impianti convenzionali, anche un impianto qua ptericoideo, questo è lo schema dell'intervento che abbiamo eseguito, impianti convenzionali mandibola e impianti ptericoidei nella parte superiore con dei denti provvisori che hanno permesso di far guarire l'osso e le gengive ovviamente abitati. Il paziente ha aspettato i mesi di guarigione al che abbiamo proceduto a creare una preview di quello che sarebbe stato il risultato protesico da ottenere. Abbiamo creato dei denti che fossero visibili, ben dominanti nel display del sorriso, abbiamo proceduto a posizionare e simulare la gengiva che andasse a fare il match perfetto con le labbra del paziente, questi sono i denti definitivi in zirconio e il paziente possiede una copia dei suoi denti in cloud, qualora ci dovesse essere bisogno in futuro grazie al nostro sistema bocca bionica è possibile andare a ristampare delle repliche dei denti che abbiamo creato. Questo è il risultato spettacolare di questo caso, dei denti vitali, iperrealistici, ti mostro quello che è il risultato ottenuto, voglio farti vedere invece da vicino come era la situazione di partenza, dei denti assolutamente finti, sembrano delle piastrelle in ceramica, dei denti abbozzati che dovrebbero sembrare dei denti, questo invece è il risultato che abbiamo ottenuto, dei denti iperrealistici con delle texture di superfici translucenti e opalescenti, c'è questo effetto madre perla che rende il dente vitale e che rende del tutto indistinguibile da dei denti naturali la nuova dentatura del paziente, un paziente ringiovanito, nota come era il sorriso prima di arrivare da noi e nota come abbiamo fatto andare via il paziente a casa con almeno 10 anni di vita in meno. Ti faccio un saluto, guarda tutti gli altri casi che abbiamo risolto con l'equipe, con il sistema Bocca Bionica.